Ehi là, Pico! Tutto pronto per la grande serata cinema? Quasi! Queste balle di fiano saranno i posti a sedere. Sommela! La serata cinema è stata una grande idea! Quando abitavo in città, guardavamo sempre film tutti insieme! Grazie al mio nuovo proiettore, possiamo farlo anche qui alla fattoria! Proietterà il film sul grande schermo! Aspetta, dov'è il grande schermo? Possiamo usare questa grande tovaglia! Bene, Pico e Harry devono finire di sistemare. Io devo trovare il telecomando del mio proiettore! Mancano solamente i popcorn! Non si può fare una serata cinema senza popcorn! Andiamo a prepararli! Su, andiamo al campo di Molly! Non vedo l'ora, Betty! I popcorn appena fatti renderanno questa una vera serata cinema in stile fattoria! Forse girandola un pochino... così! Grazie, Betty! Ma non possiamo arrenderci! Dobbiamo preparare i popcorn! Non possiamo fare la serata cinema senza! Che fatica! Hai ragione, Betty! È difficile lavorare con questo caldo! Il caldo! Summer! Che cosa stai facendo? Stai a vedere! Una goccia di olio da cucina! Ha funzionato! Il calore del sole ci aiuterà a fare il popcorn! Lasceremo le pannocchie dove sono e faremo scoppiare il mais qui! Posso spennellarci l'olio sopra con questo! Sì! Sì! Sunnit! Forse abbiamo ingesserato! Mi senti di presto! Dobbiamo sempre aprire più! Tanto correglietto! E' tutto sporco! Non possiamo servire i popcorn così! Se non riusciamo a fare i popcorn, la serata cinema sarà un disastro! Forse Todd e Pico possono aiutarci! Oh, ma non sono ancora tornati! Non possiamo fare altro che aspettarli! Oh, forse! Ma certo! Mi è venuta un'idea! Possiamo usare il grande schermo! Cioè, la tovaglia! Salto con il letto! E' così grande che possiamo prendere i popcorn al volo! Visto! Per ogni problema esiste una soluzione! Questa volta funzionerà! Ce l'abbiamo fatta! Non c'è niente di meglio dei popcorn appena fatti! Oh, ma manca ancora qualcosa! Il burro! E nessuno conosce il burro come Molly! Andiamo! Molly, guarda cosa abbiamo con la serata cinema! Ah, popcorn! Ora ci servirebbe solo un po' di burro da metterci sopra! Siete nel posto giusto! Seguitemi! Sono già tutti in fila ventra! Ecco fatto! Posso controllare il proiettore con questo telecomando! Dove sono finite, Summer e Betty? Abbiamo un altro problema! Dov'è finito il grande schermo? Eccoci qui! Ti abbiamo portato una sorpresa! Popcorn calci e burrosi! Sembrano deliziosi! Ma devo rimettere a posto il telo! Che il film abbia inizio! Che bella serata! È tutto perfetto! La serata cinema è un grande successo! Ottimo lavoro, amici! Resta solo un'ultima cosa da fare! Pronti? E... Il ballo del popcorn! Popcorn! Segui le avventure dell'Allegra Fattoria su YouTube!